Guardi, è un fatto di buon senso, il dibattito ci deve essere, in democrazia bisogna rispettare le idee di tutti, però quando uno liquida le partite degli altri dicendo che sono piazzisti da quattro soldi, già sbaglia. E quando Salvini dice che i Vescovi non rompono i lacci? Beh, io non faccio l'avvocato di Salvini, penso si riferisce al fatto che quando uno dice piazzista da quattro soldi, offende non l'esponente politico, ma offende tutti i cittadini che l'hanno eletto.